Con il nuovo anno arrivano novità anche per il super bonus che cambia ancora una volta. Potranno continuare ad usufruire del bonus al 110% anche per il 2023, quei condomini che hanno deliberato in assemblea e lavori entro il 18 novembre 2022 e presentato la Cile entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario potranno ancora beneficiare del bonus ma ridotto al 90%. Questa è la 23esima manovra o quantomeno intervento da quando il super bonus è partito, ovvero dal maggio 2020. Quindi chiaramente tutto il settore ma anche i committenti non hanno mai avuto chiara come muoversi e quali sono le condizioni per poter operare. Lo stato dell'arte attuale è che sono cambiate alcune particolarità, soprattutto le percentuali. Nell'ordine è stato riconosciuto per tutto il 2023 non più il 110 ma il 90% per i condomini. A condizioni che i condomini siano realizzati secondo, come sempre, i due salti di classe. È stato concesso anche la possibilità ai condomini di avere ulteriormente il 110% per il 2023, però secondo alcune condizioni ben definite, ovvero che la delibera assembleare sia stata fatta entro il 18 novembre del 2022 e che comunque, ultima novità, la CILA sia stata presentata entro il 31 dicembre del 2022. Diverso il discorso per le abitazioni unifamiliari e le case funzionalmente indipendenti, per le quali esistono criteri più stringenti. Si ribadisce quello che era stato chiesto e era stato concesso, ovvero la possibilità di portare in detrazione con il 110% tutti i lavori entro il 31 marzo 2023, a condizione che entro il 30 settembre del 2022 il 30% dei lavori almeno fossero già stati eseguiti. Per quanto riguarda invece il 2023 è sempre possibile fare lavori di superbonus per quanto riguarda le unifamiliari o le case funzionalmente indipendenti. Certamente non è stata più riconosciuta la percentuale del 110%, ma è stata abbassata al 90% e poi c'è una condizione sine qua nonno, ovvero che il reddito familiare rimanga entro i 15 mila euro. E se c'è un reddito di 15 mila euro, far fronte a 100 mila euro di lavori, insomma il committente ci deve pensare bene prima di avviarle queste operazioni. Per confartigianato alla misura è mancata una visione di progettualità di medio e lungo termine, così come non ha aiutato la burocrazia legata alla cessione del credito. Il commento è che non si è voluto dare delle regole ben precise e che comunque non ci sia la volontà di dare una struttura nel tempo per poter lavorare su tutto il nostro patrimonio immobiliare. Ci vorrebbero delle politiche di media lunghezza, ma si dovrebbe parlare di 15-20 anni per dar maniera al mercato di assestarsi, alle imprese di organizzarsi e di arrivare effettivamente agli obiettivi di efficientamento energetico del nostro patrimonio immobiliare. Altro tema critico, estremamente critico, che condiziona comunque il lavoro anche per il 2023 è la possibilità di cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura dal committente verso le imprese. È evidente che se l'impresa non ha poi a sua volta la garanzia di poter cedere quello concesso a uno sconto in fattura si acuisce il problema già esistente, critico, di oltre 5 miliardi di crediti incagliati delle imprese che non possano più far fronte alla propria attività per mancanza di liquidità. Quindi i temi sono due. C'è sia l'opportunità di fare lavori, ma soprattutto è indispensabile, riteniamo fondamentale, che si possa procedere a uno sblocco dell'eccessione del credito, a una facilitazione dell'eccessione del credito e soprattutto a una chiarezza della responsabilità solidale che deve essere in capo a chi esegue lavori non tanto a chi poi fa lo sconto in fattura e a sua volta cede il credito. Questo è fondamentale, altrimenti tutto quello che è stato concesso con la conversione del decreto aiuti quater o con la legge finanziaria crea in una bolla di sapone. Grazie per la visione!